Sta bene, fondamentalmente non è cambiato nulla dall'anno scorso, anzi abbiamo avuto un incremento delle nascite di 20 neonati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In questo periodo storico caratterizzato dall'emergenza sanitaria, nonostante tutte le problematiche in essere, nel reparto di ginecologia dell'ospedale San Giuseppe di Empoli si registra un incremento delle nascite. A fronte di quasi millenati, 16 casi riscontrati di positività al Covid-19 delle partorienti, 10 delle quali trasferite nel centro dedicato di Prato, le restanti 6 sono rimaste al nosocomio in Polese. 6 le abbiamo tenute qua perché erano in travaglio avanzato e di conseguenza hanno partorito qua. Per le pazienti positive attrezzate sia per l'adegenza che per il parto con ambienti dedicati e sicuri. E abbiamo destinato anche un'altra sala parto come potenziale sala cesareo di queste donne che entrano in travaglio. Accanto alla partoriente i padri che al di là di alcune modifiche emergenziali hanno e possono assistere al parto. Possono essere presenti durante il travaglio, durante il parto e nelle due ore successive al parto stesso. Purtroppo per l'adegenza no. In questo momento cerchiamo di tutelare appunto il benessere della comunità. Uno dei nodi negativi il decadimento forzato del percorso del parto naturale. Le ragazze, soprattutto le ostetriche, sono protette con le mascherine, i camici e le visiere, sempre per tutte le pazienti. Se in particolare la paziente è covid positiva, questa viene assistita ancora in maniera più protettiva per quanto riguarda gli operatori.